Se sei una persona giovane, dinamica e con spiccate doti commerciali, entra a far parte della Manzoni, la concessionaria di pubblicità esclusiva del quotidiano Il Centro, di Rete 8 e dei mezzi del gruppo JD. Avrai la possibilità di incontrare ogni giorno importanti clienti e pianificare insieme campagne pubblicitarie multimediali, lavorando in autonomia ma potendo contare sul supporto dei migliori specialisti del settore. Ti garantiamo compensi provvigionali di sicuro interesse e il mandato di agente Enasarco. Cogli una nuova sfida professionale,